all'inizio avevo pensato di chiamare questo video pensavo fosse amore e invece era un calesse ma poi mi sono ricordato di qualcuno molto più importante di me che lo aveva già scritto e allora ho virato sul titolo che hai appena letto che cosa è successo che qualche giorno fa sono uscito con un video che parlava del cash poisoning e dei modi in cui possiamo evitarlo in particolar modo c'era un'operazione quella dello svuotamento della cash che ha suscitato la curiosità di molti infatti in tanti mi hanno commentato sul canale chiedendomi di automatizzare questa operazione e siccome non sono mai sordo alle richieste dei gentiluomini digitali mi sono messo subito all'opera ma mentre lavoravo è successo qualcosa di molto ma molto strano andiamo a vedere cosa ti senti pronto iniziamo ed eccoci qui ed ecco soprattutto il programmino che ho preparato si tratta di un file batch ovvero di una serie di istruzioni in dos che vanno a fare una pulizia ed una manutenzione completa non solo della cash ma di tutta quanta la rete guardiamolo più nel dettaglio eccolo qui questo piccolo file batch fa quattro operazioni di manutenzione più una quinta opzionale che ti illustro tra qualche istante la prima che va a fare è proprio lo svuotamento della cash del dns con il comando che abbiamo visto insieme durante la realizzazione del video che è ipconfig slash flash dns la seconda istruzione che invece andremo a lanciare è ipconfig slash register dns che cosa fa questa istruzione va a risolvere eventuali problemi relativi alla registrazione dei dns e comunque aggiorna nuovamente tutti quanti i record dns che abbiamo cancellato in modo da non farci perdere nemmeno un istante durante la nostra navigazione il terzo comando è ipconfig slash release ops questo qui ipconfig slash release che va a rilasciare l'indirizzo ip che il router ci aveva assegnato attenzione perché questa operazione per alcuni secondi fa cadere la linea ma in ogni caso il programma ti avverte ogni volta che lo vai a lanciare il quarto comando invece ipconfig slash renew va a riprendersi un nuovo indirizzo ip da parte del server quindi va come si dice a rinnovare il lease con il server il quinto ed ultimo comando è netwinsoc reset che va a risolvere eventuali problemi che ci dovessero essere tra le applicazioni e la rete ad esempio tra un client di posta elettronica e la rete il browser e la rete e così via questo comando tuttavia l'ho disattivato utilizzando dei rem all'inizio di ogni riga scrivere rem in dos all'inizio di una riga significa che la trasforma in un remark ovvero in un commento quindi il computer non andrà ad eseguirla chiudiamo un attimo adesso questo file e andiamo a vedere come puoi procurartelo come puoi modificarlo e soprattutto quale stranissima sorpresa ci ha riservato per procurarci questo file come sempre andremo ad aprire il nostro browser e nel motore di ricerca andremo a digitare gentiluomo digitale effettuiamo la ricerca e il primo risultato sarà quello che ci interessa come sempre cioè quello relativo al dominio gentiluomo digitale punto it facciamoci clic su e nella parte qui in alto portiamoci sulla sezione downloads prendiamo un pochino più in basso fino ad individuare questo nome molto poco fantasioso che ho dato al file perché l'ho chiamato refresh rete una volta individuato andiamo a fare clic su questo pulsante azzurro che dice file download per scaricare il nostro file è davvero minuscolo e quindi viene scaricato in maniera pressoché istantanea facciamo doppio clic per andare ad aprirlo e chiudiamo il browser retrostante dalla cartella compressa estraiamo il file test punto bat e trasciniamolo temporaneamente questa volta sul desktop chiudiamo la finestra della cartella compressa andiamo a fare un clic con il pulsante destro sul file che abbiamo appena scaricato e scegliamo la voce taglia portiamoci quindi nella cartella documenti del nostro pc andando qui in basso su esplora file e aprendo la cartella documenti clicchiamo con il pulsante destro all'interno di questa cartella e scegliamo la voce incolla perché abbiamo fatto questa operazione perché avremo bisogno di attribuire a questo file i privilegi di amministratore vediamo come fare andiamo su questo file clicchiamo con il pulsante destro tenendolo premuto dopodiché trasciniamolo sul desktop rilasciamo il pulsante e scegliamo la voce crea collegamento qui potremo chiudere la cartella documenti e andare a fare un click con il pulsante destro sulla nostra nuova icona appena creata ancora una volta scegliamo la voce proprietà e nella finestra che si apre portiamoci sulla voce avanzate mettiamo un segno di spunta sulla casella esegui come amministratore clicchiamo sul pulsante ok e quindi nuovamente su ok per chiudere anche l'altra finestra da questo momento in poi ogni volta che questo file verrà lanciato ci verranno richiesti i privilegi di amministratore facciamo una prova e vediamo come funziona facciamo doppio clic su questo file ed incorriamo nella prima strana sorpresa infatti microsoft defender ci dice che ha impedito l'avvio di questa app non riconosciuta e che l'esecuzione di questa app potrebbe costituire un rischio per il pc ma come mai all'interno di questo file ci sono solo ed esclusivamente dei banalissimi comandi dos quindi andiamo su ulteriori informazioni e su esegui comunque a questo punto ci viene richiesto di accettare che questo file apporti modifiche al sistema e se hai un pochino di fiducia in me puoi accettare tranquillamente premesso che puoi verificare con i tuoi occhi ogni singolo comando che è contenuto all'interno di questo file quindi ti invito a cliccare sul pulsante sì e vedremo che parte automaticamente tutta l'operazione di manutenzione della rete sul nostro pc dura solamente pochi secondi e non fa né più né meno che quello che gli avevamo chiesto di fare infatti andiamo a verificare è stata svuotata la cache del dns sono stati risolti i problemi relativi alla registrazione del dns successivamente è stato rilasciato il lease dell'indirizzo ip con il router e infine è stato rinnovato i quattro comandi che avevamo dato vengono visti da windows stesso pur essendo dei suoi comandi come pericolosi ma la vicenda non si conclude qui perché io non volevo rilasciarti questo file sotto forma di bat volevo invece rilasciartelo sotto forma di exe quello che si fa per trasformare un file bat in un file exe riguarda il contenuto della mia cartella misteriosa ma sono strumenti a disposizione di qualsiasi programmatore è uguali più o meno per tutti quindi andiamo un attimo ad aprire la nostra cartella ok portiamoci nella sezione programmazione e compilazione e quindi in compilazione per poi portarci infine su batch compilers all'interno della cartella batch compilers ci sono due programmini questi qui che servono a convertire appunto i file batch in file eseguibili qual è la differenza la differenza principale che i file batch sono leggibili e scrivibili da un essere umano mentre i file exe eseguibili non sono leggibili dalle persone ma sono molto più veloci da eseguire per i computer quindi normalmente come vedi tutti quanti i programmi sono rilasciati quasi sempre sotto forma di file exe ma vediamo che cosa è successo di strano nel nostro caso quello che ho fatto è stato scegliere uno di questi due programmi bat to exe converter aprirlo e andare a convertire il nostro file batch che si trova in documenti quindi vado ad aprirlo in un file eseguibile che verrà salvato nella stessa cartella documenti andiamola ad aprire in una nuova scheda eccola qua quindi una volta che avrò compilato questo programma questo diventerà un file exe eseguibile che farà esattamente le stesse cose né più né meno di quelle che fa il file batch che ti ho appena mostrato l'unica modifica che andiamo a fare anche in questo caso è aggiungi manifesto admin in modo da farlo eseguire con i privilegi di amministratore perché questi sono comandi di sistema che a livello utente non possono essere eseguiti clicchiamo sulla voce compilar e vediamo che windows si allarma immediatamente e ci dice che nuovamente sono state rilevate delle minacce bloccandoci la compilazione di questo file allora a questo punto ho deciso di volerci vedere più chiaro ho forzato la compilazione e ho preso il mio file punto exe che ho creato io e ho provato a lanciarlo mi vengono richiesti i privilegi di amministratore e fa esattamente quello che faceva il mio file batch nel dubbio ho pensato di fare anche qualcosina di più ho aperto virus total e sono andato a caricare i file per vedere che cosa ne pensava ecco qua il nostro file exe vado ad aprirlo confermo l'upload e lo faccio analizzare ed ecco qui che il file che ho appena creato che contiene quattro comandi dos normalissimi risulta infetto per la bellezza di 22 antivirus ma perché ti dico questo oltre a farci due risate insieme per due motivi principali il primo è che ti lascio la versione batch quella che può essere letta di questo file sul sito gentiluomo digitale punto it potrai analizzare ogni singolo comando inserito in questa versione e vedere con i tuoi occhi che non c'è assolutamente nulla di strano o di infetto ma il secondo motivo è quello relativo agli antivirus da un lato questi sono abituati a gridare spesso al lupo al lupo allarmandoci per un non nulla dall'altro lato spesso prendono delle cantonate spaventose e permettono a qualche malware di entrare sul nostro computer ma allora verrebbe spontaneo chiedersi quale possa essere la soluzione bene la soluzione si articola in due passi fondamentali il primo è quello di scaricare sempre il software da fonti attendibili e il secondo invece è quello di usare sempre la testa e la prudenza ed anche questa volta ho perso la cognizione del tempo mentre giravo il video e mi sono dilungato un po' troppo per cui adesso invece taglio corto ma non posso lasciarti come sempre prima di averti salutato ringraziato per avermi fatto compagnia nel corso di questo video e dato appuntamento alla prossima